Il tuo corpo è composto da miliardi di cellule diverse i cui compiti variano dalla creazione dei tuoi organi vitali alla produzione dell'energia di cui hai bisogno per continuare a muoverti durante il giorno. Lo fanno inviando informazioni attraverso vaste reti di comunicazione, note come percorsi di segnalazione cellulare. Tutto ciò che mangi contiene sostanze nutritive che fungono da messaggeri molecolari, trasferendo le istruzioni lungo questi percorsi alle tue cellule. Isolando i nutrienti chiave puoi attingere alla naturale capacità del tuo corpo di inviare e ricevere informazioni e creare una risposta specifica all'interno delle tue cellule. Questo è il potere della tecnologia InSelligence di USANA. Utilizza miscele scientificamente sviluppate di sostanze nutritive ed estratti vegetali che agiscono su questi percorsi distinti per potenziare i segnali che attivano importanti benefici per la salute, come una maggiore chiarezza mentale, una risposta immunitaria più solida e una migliore difesa contro lo stress ossidativo. Questa tecnologia rivoluzionaria offre esattamente ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per attivare le sue naturali capacità adattative, ridefinendo ciò che significa vivere una vita felice e sano. Inizia oggi personalizzando il tuo trattamento di benessere con un'alimentazione mirata con la tecnologia InSelligence. Solo da USANA.